Buon sabato, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Ancora coda per incidente, un chilometro in A1, siamo tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata tra San Miniato ed Empoli-Ovest direzione Firenze. Il traffico è intenso sulla 11, una coda Lucca-Est provenendo da Pisa. Ricordo che sulla 1 l'uscita di Firenze in Pruneta sarà chiusa dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì 5 novembre provenendo da Bologna per il ripristino di un incidente, uscita consigliata Firenze-Scandicci. Infine i treni, il 18377 Firenze-Santa Maria Novella-La Spezia è stato cancellato, viaggiatori con il treno 4037 o 4041. Buon viaggio grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti.